Il 10 agosto si è tenuta a Bucharest un'importante manifestazione, una manifestazione pacifica contro la corruzione, la corruzione che negli ultimi tempi è stata rappresentata soprattutto dal Partito Social Democratico attualmente al potere, persone legate al governo, lo stesso capo del partito sono state accusate, in alcuni casi anche condannate per dei rati. La manifestazione è stata importante perché hanno partecipato oltre 100.000 persone, perché ha coinvolto anche in parte i romeni della diaspora, alcune migliaia di persone che sono venute dall'estero per partecipare alla manifestazione, che si trovavano in Romania per vacanze e hanno in qualche modo sacrificato una parte delle vacanze per partecipare alla manifestazione. Una manifestazione che ha visto di fatto un comportamento pacifico, se non per l'eccezione di alcune decine di faccini norosi che hanno contestato la gendarmeria, hanno lanciato bottiglie di plastica, cose di questo tipo. Qui c'è stata una reazione oggettivamente spropositata da parte della gendarmeria che ha usato gas lacrimogeni, che ha usato granate fumogene, che ha usato cannoni ad acqua. Ripeto, oggettivamente reazione spropositata che in qualche modo ci dà un po' il quadro della frattura che c'è tra la parte più consapevole della società romena, quella che era in piazza il 10 agosto, e la leadership attualmente al potere naturalmente. Questo è un passaggio senza dubbio molto importante. Ci sono in queste ore molte contestazioni da parte della stampa, a seconda dello schieramento polio di una parte o dell'altra. Quello che rimane è un passaggio cruciale per la società romena, perché in questo momento si sta discutendo di qualcosa che tocca tutti, cioè la corruzione, il rapporto tra la società civile e il potere.